Ora si vede la fredda Stanno prendendo i gruppi Se non giocano tutti di squadra cominciano a fare solo gioco di singolo Guarda c'è uno Chiudilo Allora si vede la fredda Non lo scusiamo Allora butala fuori quella palla grazie Un momento Mirko Un momento Mirko Un momento Mirko Un momento Mirko Buona spagna Sì Giorgia uomo, non tirano alto, tirano alto quando c'è quelli alti, non c'è per sé, perché io per quelle valsi vado peggio, no? In realtà la mente tira sempre al basso, il finismo di tale tira al basso, oddio, calma, riparti, respirate, ma non sta morendo. Oh! Finalmente! 2 minuti 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 2 minuti